Sono sei medici indagati per la morte del 26enne Cosentino Mario Tarsitano deceduto sabato scorso all'annunziata di Cosenza. Una morte improvvisa su cui pendono molti interrogativi. Ad iniziare dalla pleurite che pare abbia causato la morte di cui nessun medico si era accorto fino a quel momento. Una famiglia dunque distrutta dal dolore per la quale al danno si è aggiunta anche la beffa. Martedì si sarebbe dovuto eseguire l'esame autoptico ma così non è stato. Un problema alla cella frigorifera deputata alla conservazione della salma ne ha impedito l'esecuzione. La temperatura nella stanza infatti era di gran lunga superiore a quanto necessario. Non si punta il dito contro nessuno. Il problema che si è verificato è che la salma che era stata messa chiaramente già prima della denuncia a disposizione per effettuare un'autopsia e successivamente appunto a seguito della denuncia a disposizione dell'autorità giudiziaria è stata riposta nella cella frigorifera il sabato, la domenica, il sabato purtroppo è deceduto, la domenica è stato riposto nella cella frigorifera quando siamo andati ad effettuare l'esame autoptico con i consulenti sia del pubblico ministero che di parte. Purtroppo la situazione che si è presentata è stata tragica perché si è verificato il problema delle cella frigorifera spente. La temperatura all'interno della sala dove poi doveva essere effettuata l'autopsia era di circa 32 gradi quindi è stato impossibile effettuare l'esame in quella sede. È stata poi trasportata la salma presso l'obitorio del cimitero e l'esame autoptico è stato effettuato nella serata di mercoledì in condizioni differenti presso appunto l'obitorio del cimitero quindi ulteriore ritardo nelle attività. Nessun accanimento, l'unica cosa che la famiglia vuole è avere verità e giustizia. Quello che è successo è chiaramente una cosa che non dovrebbe accadere in un ospedale come quello di Cosenza e soprattutto quello che è successo ad oggi è che non è stata neanche data la possibilità ad una famiglia dei genitori di vedere il ragazzo dopo la morte perché chiaramente poi quelli che sono stati fenomeni chiaramente tanatologici ce lo diranno poi i consulenti tecnici sia del pubblico ministero che di parte all'esito dell'esame autoptico.